la rata di Grimaldi Messina a Cavese al Celeste 1 a 0 ha un solo protagonista Niccolò Napoli in pratica è la sua giornata fa tutto lui prima ci prova dalla distanza poi di testa situazione di calcio d'angolo colpisce il palo su questo calcio di punizione poi Niccolò Napoli decide il match a pochi minuti dal tempo